Nonostante le difficoltà del momento, la crisi che purtroppo vede chiudere per ragioni economiche tante attività produttive e commerciali, il cinema parrocchiale Oddo di Termoli vuole vincere questa nuova sfida, ha riaperto le porte dopo la pausa estiva. Abbiamo voluto offrire questa scommessa in una economia di guerra, in una economia traballante, in una crisi imperante, con grande difficoltà e anche profonde sofferenze, economiche ovviamente, abbiamo voluto riaprire perché la città di Termoli credo che meriti una sala cinematografica, perché cinema è cultura, perché cinema è socialità, perché cinema è incontro, perché cinema è svago e l'animo umano credo che abbia bisogno di queste modulazioni, abbia bisogno di queste opportunità ed è questo l'unico motivo per il quale noi abbiamo aperto. Abbiamo aperto lasciando invariato il prezzo dei biglietti ormai ancorato ad 11 anni fa e offrendo la possibilità, essendo questo un cinema parrocchiale, di ospitare gratuitamente anche i portatori di handicap e i loro accompagnatori. È un gesto, è una carezza, è un segno di attenzione verso questo mondo, ma anche per sollecitare la partecipazione e la frequenza. Speriamo che premino con la presenza. Il cinema può rimanere aperto se viene frequentato. Come dice Don Benito, sarà importante viverlo il cinema, sfruttare questa occasione culturale per i termolesi e non solo. La prima giornata di proiezioni ha registrato in tutto solo quattro presenze. Facile capire che in queste condizioni tenerlo aperto non sarà facile. L'appello è quello di abitare il cinema, se si vuole la sussistenza del cinema, la sopravvivenza del cinema. Noi ci diamo molto da fare, da offrire una programmazione fresca, aggiornata, film di prima uscita.